Abbiamo una missione, portare internet dalla casa dove sono adesso al box dove chiaramente ho parcheggiato la mia Tesla perché per chi non lo sapesse l'auto richiede degli update per quanto riguarda il software e quegli update e quegli aggiornamenti li fa se c'è una connessione ad internet potete tirare fuori lo smartphone, fare un hotspot, scaricare tramite lo smartphone appunto i dati perché è come se fosse connessa una rete internet però è un qualcosa di abbozzato farlo in questa maniera mentre se l'auto è sempre connessa quando l'ha ritirata nel box a internet per i fatti suoi di notte come uno smartphone fa l'aggiornamento quindi per portare internet nel box ho due piani, in realtà uno è già fallito nel senso che la prima scelta che avevo come dire identificato era quella di utilizzare un powerliner così proprio da utilizzare come dire l'impianto elettrico per portare internet direttamente nel box però non è andato a buon fine il problema riscontrato è che qui dove vi faccio vedere ora fuori qua dalla parte opposta chiaramente il contatore quello di Enel dopodiché questo è il magneto termico del piano della mia casa quindi che fa tutto il piano mentre questo qui se adesso non sbaglio assolutamente è quello dell'impianto che va direttamente al box questo significa che quando io collegavo la Powerline Master sopra nel mio appartamento il segnale come dire veniva propagato al massimo proprio fino a questo punto e il segnale non passava tra questi due interruttori per facilitare quindi non passava attraverso il contatore di conseguenza i sistemi non si vedevano il connettore quello master quello principale non vedeva lo slave di conseguenza non ho potuto utilizzare questa soluzione quindi il secondo piano è quello invece di utilizzare un sistema mesh con dei ripetitori questi mi sono procurato un sistema Orbi Netgear Orbi che praticamente crea una rete mesh se non sapete cosa è una rete mesh vi lascio il mio video qui da qualche parte in cui vi ho mostrato in passato quindi il piano è di collegare questo che è praticamente il router principale ha un vi faccio vedere qui vicino si può vedere si ha un cavo di rete classico della casa che esce dal modem e questi in realtà poi magari possono anche utilizzarmi come connettività cablata ma non è necessario e poi trasmettere wifi il segnale internet da qui che è il mio studio a giù dove vi faccio vedere fra poco ecco che qui sotto un paio di piani giù un po' a distante c'è il box e farlo ricevere appunto dal satellite e connettono parlano tra loro tramite appunto una connettività wifi vedete non sono piccolissimi hanno antenne potenti e permettono di coprire fino a 300 metri quadri io non ho il box a 300 metri di distanza o anche neanche 50 però ci sono le pareti spesse della casa le pareti del garage quindi insomma ci sono molti ostacoli dovrei farcelo ugualmente ma adesso lo scopriamo nel frattempo mi sono anche stampato questo bello oggettino che è un supporto per poi permettermi così di collegare a muro il mio satellite che metterò giù in garage quindi vediamo se la connettività arriva cioè se da qua passa attraverso tutti i muri e arriva al garage senza problemi step 1 ho connetto il router appunto all'elettricità per alimentarlo e ha una porta di rete quindi 1 clic internet step 2 vado nel box per collegare il satellite che ho qui e vediamo se si parlano poi vi faccio vedere anche l'applicazione per configurarli quindi per ora lo metto qui in maniera provvisoria così adesso l'alimento per farvi capire dunque quella finestra che vedete vediamo se si può indicarla lì è dove c'è praticamente lo studio quindi dove c'è il router mentre qui sotto c'è il box dove ho l'auto e dove devo far passare internet quindi non è molto distante però ci sono un po' di ostacoli di mezzo in questo caso serve unicamente installare l'alimentazione e basta poi in realtà questo satellite ha anche ulteriori due porte ethernet nel caso in cui volessi cablare qualcosa qui nel giardino non è il mio caso però è un qualcosa in più tastino sync per sincronizzarlo adesso però vediamo insomma se ho fatto bene a fare così o se dovevo prima sincronizzarlo scarico l'applicazione vediamo scaricata l'applicazione di net gear orbi e ho semplicemente effettuato una registrazione classica quindi adesso vado a installare un nuovo prodotto la risposta è sì direi che è stato super semplice nel senso che proprio vi ho fatto vedere queste semplici azioni ha fatto tutta l'applicazione ha rilevato la connettività ad internet ha rilevato i satelliti e ha proprio si è connesso anche automaticamente alla rete wifi che ha creata faccio continua faccio personalizza le impostazioni ovviamente adesso io posso andare a creare il nome della rete wifi cambio il seed la chiamo ferry outdoor e la password non ve la dico posso attivare anche il face id volendo velocemente quindi si attiva il face id sono io e adesso mi fa qualche domanda di sicurezza così per nel caso recuperare la password sta praticamente aggiornando adesso la rete chiaramente con il nuovo wifi quindi qualche minuto addirittura sta già ricercando ferry outdoor che quindi è là lo vedete dietro di là qui sopra il mio orbi e adesso si connette e vediamo se riesco a navigare tutto ok sono connesso alla rete ora viene ricercato se c'è un nuovo firmware vediamo nel caso lo facciamo aggiornare in realtà poi è tutto qui è già finito però facciamo un test di velocità per vedere effettivamente quanto sono in grado di tenere potente come dire il segnale wifi anche non a distanza troppo elevata in questo caso però attraverso comunque delle pareti spesse della casa e anche del del garage che è comunque in cemento armato e intanto firmware da aggiornare aggiorniamo tutto fatto ci siamo quindi vedete che è collegato ha trovato anche i satellite quindi con le varie opzioni si può anche configurare si può gestire un sacco di roba a me interessa però in questo momento velocità internet possiamo addirittura fare già appunto il test di velocità qui quindi lo facciamo vediamo come va il risultato è decisamente buono nel senso che siamo a 35 mega in download che alla fine è la velocità quella che ho in casa quindi praticamente non si è perso nulla e una velocità in upload di 30 mega quando la mia connettività solitamente è di 20 mega in upload quindi sembra che sia un miglioramento dubito che possa essere un miglioramento probabilmente in questo caso un piccolo errore dell'applicazione in ogni caso significa che non ho perso assolutamente nulla ciò che ci sono mi sono spostato praticamente sotto al gazebo che sta proprio praticamente dietro l'angolo della casa voglio rifettuare un test di velocità in questa zona ovviamente qui il segnale è leggermente meno forte però sembra andare benissimo quindi questo mi ha permesso di portare anche internet come dire qui in giardino sotto al gazebo dove solitamente prima chiaramente quello di casa non arrivava quindi ho espanso decisamente molto la portata del mio wifi casalingo ma chiaramente ora vediamo il motivo principale per cui io ho fatto tutto questo baradam e quindi appunto portare internet qui per l'auto perché vedete ho anche un aggiornamento da fare che non ho ancora fatto quindi andiamo a connetterci la rete chiaramente qua ha la massima potenza ok chiaramente connesso senza problemi l'antenna della tesla non è particolarmente potente è posizionata nello specchietto dalla parte opposta leggermente distante però ecco un po' scarso da quel punto di vista però è perfettamente connesso quindi adesso ogni volta che arrivo a casa alla sera che entro qua nel garage praticamente mi si connette per i fatti suoi quindi appunto adesso connesso dal load aggiornamento software in corso direi che la missione è compiuta però voglio ricapitolare un po' tutti i vantaggi di una soluzione di questo genere perché col senno di poi effettivamente non mi è dispiaciuto scegliere un sistema mesh anziché una power line e il motivo è che quindi ho riportato chiaramente la rete wifi qua all'interno del box senza problemi chiaramente sono riuscito a potenziare l'auto si è chiusa a potenziare quindi anche la connettività di rete in tutto il giardino quindi adesso la mano arriva l'inverno comunque per l'estate prossima chiaramente ci sarà la possibilità magari di mettersi in giardino sotto il gazebo col computer con la connettività e sono riuscito a potenziare anche il wifi di casa perché questo nel mio studio il wifi arrivava come dire con una potenza limitata al 30% non è molto distante vedete il modem è infilato là in fondo dietro praticamente un armadio con le varie porte e con i muri non arrivava proprio al massimo della potenza in questo caso avendo il router principale connesso a un cavo di rete qua qua addirittura c'è il wifi probabilmente migliore della casa che poi da qua come detto si trasferisce giù al box quindi amici vi ringrazio per avermi seguito in questo video un po' così più movimentato del solito perché ho voluto proprio farvi vedere tutti i vari posti per l'installazione fisica del prodotto è veramente molto semplice lo ribadisco non ho fatto alcun tipo di fatica vi lascio qui sotto in descrizione il link al prodotto quindi in realtà non ho nemmeno seguito come dire le istruzioni perché collegato il router collegato il satellite è fatto a partire dall'applicazione ed è funzionato tutto senza alcun tipo di problema se siete anche voi in questa situazione volete magari portare semplicemente wifi in giardino o in un'altra stanza i sistemi a mesh ad oggi sono completamente maturi ben funzionanti e quindi ve li consiglio grazie per avermi seguito vi raccomando lasciate un mi piace iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un altro video ciao